Anjian Anjian Io sarei per rimandare perché sicuramente se fai qualcosa ti viene un controllo dentro E dopo sono cazzo Anjian C'è del bordello lo sai anche tu Io sinceramente con quello che sta succedendo Leggiamo bene le cose prima di andare a fare qualcosa che può andare anche contro La multa eh Anjian Multa eh Anjian C'è del bordello lo sai anche tu Anjian Multa eh Anjian Anjian Io lo postificiamo e decideremo da altro o più avanti perché se lo fai Stato il controllo ti viene sicuro E non vai E succede un bordello lo sai anche tu Anjian Cioè io sinceramente con quello che sta succedendo Leggiamo bene le cose prima di andare a fare qualcosa che può andare anche contro La multa eh La multa eh Si lo postificiamo e decideremo da altro appena più avanti perché se lo fai il controllo ti viene sicuro Anjian 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 Se lo fai il controllo ti viene sicuro Anjian Anjian E' succede un bordello lo sai anche tu Anjian Anjian E' O Anjian Grazie a tutti.